Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Happy Whales, è domenica e si ritornano con le solite abitudini, signori Nuovo video, nuovo schifo che andiamo a fare in questo video ma ci proviamo, ci proviamo Allora, qui la grassonna ci guarda con i denti storti, dice ma che stiamo a fa' e infatti è l'ora di mangiare, la domenica si mangia, noi portiamo a video di Happy Whales Signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941 E anche sull'altra piattaforma, quella delle live, quella viola, quelle delle streamer, quelli importanti, ci siamo anche noi E mi trovate sempre lì anche come Maullo941 Detto questo signori, non perdiamo molto tempo e partiamo con il video Ok, abbiamo cercato i livelli quelli più in cima, diciamo, della settimana Iniziamo col primo, signori, speedy jetpack Cosa può succedere? Io non ricordo i tasti, aspettate Calma, perché è messo così male questo? Aspettate un attimo, calma Calma, calma Aia, 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 aia Siamo partiti malissimo, signori Siamo arrivati a ok, va bene Superfluo, su, calma, calma Dovevo un attimino riprendere confidenza con i tasti, signori Parti Nooo, ma dai Ma non sapevo che il tetto Mmmmm Che nel tetto ci fossero pure I cosi Dai, 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 dai Il mio cervello va? Per monti e per città? Ci arriverà? Dove sta andà? A morire male Va bene, ok, signori Questo primo livello non è mai esistito Il primo è di riscaldamento Circo l'Adventure 2 Che vorrà dire, signori? Circo l'Adventure Oh, che carino Dai, dimmi che non devo fare niente Che devo fare? Che devo fare? Interessante Aha Molto interessante Ma non so che cazzarola devo fare Perché Key, door Level Ah, ok Ehm Ma, ehm Level, door, key E quindi? Ok Ok Calma, calma Ce la possiamo fare Stiamo calmi Ah, no, aspettate Con questo Chiudo questo e apro quello Ok Ma io devo un attimino tornare qua però E porca miseria Ho sbagliato, signori Ho sbagliato, sbagliato Dobbiamo prima attivare questa Questa dobbiamo rimettere un attimo qua Dobbiamo un attimo Mamma mia Che Che facciamo questa Ok, poi torniamo qui Torna zio Dai, dai Ok Andiamo verso il viola Il viola Sì Il rosa Ok Ora dobbiamo tornare qui Saltare come se non ci fossero domani Vai, vai No, no, no Non devi saltare prima Devi saltare quando te lo dico io Ok Celestino Abbassiamo il celestino Andiamo dal rosa Dai, 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 dai Ora dico io Un livello di epi Quello in cui stiamo facendo solamente questo Ok Un dieci minuti di video Che se ne vanno solo così Dai così Salta Bravo Bravo zio Va un po' indietro Salta Salta No Va un po' così Salta Salta No No Un po' indietro Un po' indietro Vai un po' Salta 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 No, no, no Non stai andando troppo Salta Salta Al contrario Piano 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 Più 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 stretto Lo potremmo fare Sto buco Dai, è così Oh, perfetto Ora salta di qua Andiamo a aprire il blu Ok Andiamo a prendere la chiave No, ho troppa potenza Che cazzalone succede? Hai preso il turbo Ok Pigliamo la chiave Con la chiave abbiamo aperto la porta Sì, l'abbiamo completato Zitto, zitto Cacchio, cacchio Ce lo siamo portati a casa, signori Complimenti, complimenti Bello, bello, bello Ma ce ne andiamo velocemente Vediamo cosa possiamo fare Un bottle flip extreme Oh, bottle flip extreme Io non ricordo Aspettate Come le piglio le bottiglie Ah, ok Eh, dai, è così Semplice Pulito Che famo? Shot cut Aia, mi si è rotto il bacino Come cazzo non l'ho fatto a rompere il bacino? E sto anche tirando una bottiglia Mi lancio da solo, signori Ho fatto mate Dai, 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 dai Che riesco a far tanto Good Ho fatto good Le mie gambe vanno per monti e per città, signori Viaggio da solo Ho fatto il bottle flip con me stesso Con la gamba Voglio fare il bottle flip con la gamba No, sono morto Mi è rimasta la gamba sotto Mamma mia, che brutta cosa Usciamo Grazie, grazie Bello, bello Spikefall Erratic Così? Dopo proviamo Erratic, signori E se non leggo male Ho letto pure Minecraft Con il nostro ammino qui Bello Spikefall Easy win Perché? Perché io devo andare E easy win non mi ci fa andare però Ah no, mi ci fa andare Vittoria facile Perché so Aia Perso un attimo le ginocchia Sono volato fuori dalla mappa Decisamente sì Decisamente sono volato fuori dalla mappa Non ho capito perché questo Easy win Però ce ne freghiamo Vai zio Dai che sei tutti noi Dai che sei tutti noi Salta così Bello, 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 bello Troppo stretto Troppo stretto Ce lo posso riprovare, signori Posso riprovare Posso riprovare Dobbiamo semplicemente essere un po' più veloci Troppo veloci Troppo veloci Troppo Torni indietro Torni indietro Vai avanti Vai Tutto, tutto calcolato Signori Tutto calcolato Dico Era tutto calcolato Ok Ci siamo partiti a casa Allora Io vi ho letto Minecraft Minecraft Adventure Che cazzo là vuol dire Minecraft Adventure Ok Siamo con il nostro figlio Dead one No Play Outsider Perché urla Io lo so che mi spunto un creeper Che cazzo là Perché noi camminiamo con la bicicletta a casa nostra Stiamo passando I'm playing My turn Ma cosa cazzo Se n'è andato Ciao No Minecraft Ok Partito il videogioco ma noi ce l'andiamo Allora Nostro figlio è morto Noi siamo caduti in una pozzangra d'acqua di Minecraft Perfetto Così impari a voler giocare A Minecraft invece che stare con tuo padre Ok Aia Siamo morti male in Minecraft signori Ma che cazzo l'ho appena visto Vabbè lasciamo perdere Minecraft in Happy Wheels Facciamo un ultimo livello Erratic 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 Che non so cosa voglio significare Ok Inoltre indietro non possiamo andare Inoltre La finestra vola signori Io lo so che tra un po' mi cadrà qualcosa in testa Ecco 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 perfetto I lampadari che hanno una Forza di gravità per i fatti loro Va bene Non riesco a più andare avanti Quindi Che devo fare Che cazzo lo devo fare Che cazzo lo devo fare Signori Forse devo muovere Perché queste sono girate al contrario Questi No Mi fa andare avanti Questa Aspettate Forse perché mi sa Mi sa che Mi sa che la porta è lì Porca miseria Devo andare No abbiamo perso il nostro figlio Non ha importanza Abbiamo perso anche la testa Questa forse è un po' più in particolare Signori Non ci ho capito niente In questi livelli di Minecraft Di sì di Minecraft Di Happy Wheels Va bene così Oggi abbiamo fatto proprio schifo Proprio la grassona Nell'intro del video Ci guardava male Perché già sapeva Che mi ha fatto schifo Deve signori Io vi auguro una buona domenica Noi ci rivediamo qui sul canale Per un prossimo contenuto Sperando che domenica prossima Con Happy Wheels Vada meglio rispetto a oggi Bella raga Ciao